Siamo con l'Apo Salvetti, il coach della squadra vincitrice della Coppa Toscana. Stasera avete sempre avuto la partita in pugno. C'è stato un momento in cui avete avuto paura nel secondo quarto? Sì, nel secondo quarto, quando Siena ha iniziato a segnare a ripetizione e riuscita a mettere in un paio di occasioni il naso avanti, temevo che magari la nostra difesa non riuscisse a reggere come in realtà ha fatto per tutta la partita perché la squadra ha fatto un'ottima prestazione soprattutto nella metà campo difensiva mai concedendo canestri facili a Siena e quindi questo è stato sicuramente la chiave per la vittoria. C'è stata una prova di carattere continua perché ogni volta che Siena recuperava qualcosa voi subito la ributtavate dietro di 15-20 punti, una questione caratteriale, una forza caratteriale avete dimostrato. Caratteriale? Noi comunque abbiamo perso due partite in questo campionato, una di queste l'abbiamo persa a Siena e sicuramente ci tenevamo a far vedere che avevamo le capacità e le potenzialità per poter competere con loro che sono primi in classifica insieme a noi e quindi volevamo dimostrare prima di tutto a noi stessi che potevamo appunto giocarcela con loro. Devo dire che le percentuali nostre da tre punti oggi soprattutto la buona vena di Poltroneri al tiro ci ha permesso di fare diversi canestri da tre punti che hanno un po' allargato la loro difesa quindi quello secondo me ecco oltre alla nostra difesa è stata un po' la differenza. E secondo lei è stato Poltroneri il giocatore decisivo in questa fase finale perché noi abbiamo fatto la stessa domanda al presidente e secondo lei chi è stato il migliore in tutta la fase finale lui ha detto la squadra? Sì sono d'accordo nel senso è chiaro che poi in uno sport di squadra servono le prestazioni dei singoli ma senza l'organizzazione difensiva non avremmo vinto oggi, non avremmo vinto ieri e non avremmo fatto un campionato come stiamo facendo dove ancora non siamo riusciti a schierare tutti i giocatori anche oggi Tahiti l'abbiamo tenuto precauzionalmente senza farlo entrare quindi diciamo che siamo fiduciosi per il 2018 abbiamo un buon potenziale cerchiamo di andare avanti e lavorare e giocarci alla fine in fondo. Dopo la Coppa Toscana lottate per il passaggio in Serie B? Nel momento in cui la società è riuscita a prendere poltronieri non possiamo nasconderci nel senso non è che possiamo far finta di non essere competitivi sappiamo però bene siccome già ci siamo passati avendo vinto il campionato due anni fa sappiamo però bene che per vincere ci vogliono tante cose che vanno messe in fila ci sono tante cose che devono essere fatte da tutta la squadra e quindi ora col tempo cerchiamo di farci trovare pronte playoff e giocarci alla fine in fondo.